Ciao, sono Aldo D'Amico, imprenditore e co-fondatore di Performarsi.net. Oggi sono qui per te, per invitarti ad un evento unico nel suo genere, unico per quattro precisi motivi. Il primo è che verrà condotto da due autori d'eccezione, Vito Torgani, trainer e ricercatore indipendente, fondatore di autostimapratica.it, esperto in autostima. Il secondo formatore è Ettore Amato, esperto in comunicazioni relazionali, autore del blog amorevaleducato.it e scrittore del libro L'amore non fa soffrire. Il secondo è che potrai fare, essendo un evento interattivo, tutte le domande che ti verranno in mente inerenti il tema trattato ai due formatori. Terzo, è un evento totalmente gratuito. Quarto, capirai perché ti ritrovi ad attirare nella tua vita sempre le stesse persone e le stesse situazioni. Infatti, il titolo dell'evento è Chissà perché capitano tutte a me. Ti aspettiamo domenica 8 maggio alle 15 all'hotel NIFA ad Avigliana. Per iscrizioni e maggiori informazioni, clicca sul link che trovi in questa pagina. A presto! Grazie a tutti!